Contestate tantissimo le ore di funzionamento della centrale, le emissioni della centrale di Torre Valdalica Nord, però sono delle contestazioni che non hanno motivo di esistere. Sono delle contestazioni assolutamente infondate. Per chi oggi ho parlato con i numeri, i numeri sono che noi abbiamo ottenuto in maniera incontrovertibile una diminuzione drastica delle emissioni inquinanti che escono dai cammini di Torre Nord. Rispetto a prima l'AI ha ridotto notevolmente queste emissioni. Quindi possiamo dire che oggi la centrale inquina meno, meno, meno assai di quanto non inquinava prima di questo risultato che non potessimo avere. Il fatto stesso che a loro si attaccano ancora al discorso del massimo delle ore di funzionamento aumentate è una stupidaggia perché sono dei limiti massimi che non saranno mai raggiunti grazie al fatto che noi abbiamo imposto che i limiti venissero misurati giorno per giorno, cioè limiti giornalieri. E sapendo che quando il limite giornaliero non può essere superato, a fine anno sicuramente quei limiti non verranno mai raggiunti. Quindi ho dato i numeri, sui numeri voglio risposte. Non voglio chiacchiere ma i numeri. I numeri sono quelli che ho dato io e che sono quelli del Ministero dell'Ambiente. E parlando sempre di centrali, c'è stato un incontro fra l'amministrazione comunale e TVS per cercare di aprire una nuova convenzione anche con l'altro Polo Energetico. Ma è stata diciamo casuale quella riunione perché eravamo andati lì per altre questioni, eravamo andati lì solo per problemi di lavoro. Perché abbiamo letto sui giornali che 150 lavoratori ristiavano il posto di lavoro. Siccome intorno a nord ci sono 138 lavoratori, torre sud e 138 posti di lavoro, siamo fortemente preoccupati. Quindi come sindaco che sono realisticamente e fortemente preoccupato per i livelli di occupazione della città, siamo andati per capire che cosa Tirreno Power avesse in mente in ordine ai lavoratori di Civecchi. Abbiamo avuto delle risposte rassicuranti, nel senso che probabilmente non si perderà nessun posto di lavoro. Probabilmente, io direi sicuramente non si perderà nessun posto di lavoro. E ovviamente in quel contesto abbiamo anche affrontato la questione di una convenzione che si deve fare, anche se dicono che questa questione si farà o non si farà. Noi la convenzione la vogliamo, la stiamo predisponendo e tra circa un mese la presenteremo. Avremo un incontro insieme tra il delegato ai rapporti con gli enti energetici e il sottoscritto ai problemi del lavoro, andremo a presentare esattamente una nostra proposta di convenzione che daremo a Tirano Power.